Benvenuti a Meteorogadetti, vediamo ora le attenzioni per la giornata di martedì 19 marzo. Come possiamo vedere il tempo si presenterà generalmente luvoloso, con scherite a notte e dove scettarsi al centro-sud. Andiamo ora, meno specifico, a vedere le attivazioni per la maggior regione di Marche e Abuso. Il tempo si presenterà luvoloso o proprio scettarsi. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5 tanti e una massima di 10. Da Metro del Ejecutto al prossimo contenito.